La notizia dell'ufficializzazione del Gran Premio di Formula 1 al Mugello ha fatto riaccendere le speranze anche per l'autodromo Enzo Edino Ferrari di Imola. Da anni la Toscana caldeggiava l'ipotesi di ospitare una corsa del massimo campionato automobilistico e la possibilità sia concretizzata con la necessità di rimodulare il calendario della stagione 2020 di fronte alla situazione della pandemia del coronavirus. Per lo stesso identico motivo, Imola è tornata a sperare nel buon esito di trattative già da tempo avviate. Il continuo aumento dei casi negli Stati Uniti e in Sud America infatti potrebbe portare il Circus a rimanere in Europa dopo l'ultima corsa per ora attualmente certa. Il Gran Premio di Sochi, la decima gara fissata per il 27 settembre, due settimane dal Gran Premio della Toscana Ferrari 1000. Sono passati 14 anni dall'ultima gara di Formula 1 disputata a Imola. La trattativa per riportarli in monoposto in riva al Santerno è iniziata a fine aprile. Al contrario del Mugello, in questo caso non c'è la Ferrari, proprietaria della pista in Toscana, a poter fornire un aiuto sostanziale. Proprio la Ferrari è risultata decisiva per attribuire la gara al Mugello, per alcuni addirittura sorpassando proprio l'Imola che dalla primavera si era candidata come seconda gara in Italia dopo Monza. A vantaggio della candidatura confermata all'omologazione per la Formula 1 della pista, i riscontri positivi dei piloti dell'Alfa Tauri impegnati a pochi giorni dall'inizio del campionato in una giornata di test a Imola. E l'assenza di pubblico che solleverebbe Formula Imola e il Comune da uno sforzo organizzativo non indifferente. Non ultimo, il cambio di guida dell'organizzazione del campionato. Non è infatti un segreto che uno dei maggiori ostacoli al ritorno della Formula 1 è sempre stato Bernie Eccleston. Non giocano a favore di Imola invece le modifiche al tracciato determinate dalle norme di sicurezza dopo la tragica corsa del 1994 che hanno snaturato il circuito, facendo perdere tutte quelle caratteristiche che l'avevano portato ad essere uno dei tracciati preferiti dai piloti. Contro il ritorno delle monoposte anche i comitati sorti negli anni per contestare l'inquinamento acustico dovuto agli eventi all'interno del circuito. Un altro elemento a sfavore della candidatura, i 14 anni di assenza di Imola nel calendario e la mancanza di quest'ultimo periodo di eventi di grande importanza, soprattutto dal punto di vista sportivo, fatta eccezione per il campionato mondiale di motocross. La Formula 1 a Imola vorrebbe dire un importante indotto economico per tutto il settore turistico dei territori circostanti, a cominciare da Faenza. La città Manfreda infatti, quando Imola era costantemente nei calendari motoristici, veniva sempre scelta come meta dai team che riconoscevano nei suoi alberghi e nelle sue strutture sulle colline i luoghi migliori dove riposare lontani dal circuito, una decisione che poi ricadeva sulle altre attività economiche dell'indotto. Nel gioco delle ipotesi, le possibili date per un'eventuale corsa sarebbero il 20 settembre per completare la trasferta italiana o dopo il 27 settembre, quando teoricamente si dovrebbero disputare le corse negli Stati Uniti, in Messico e in Brasile, non ancora ufficializzate a causa appunto del Covid-19. Non sono molti i circuiti nel mondo attualmente che possono candidarsi a sostituire un Gran Premio cancellato dal calendario. In dubbio, attualmente ci sono otto corse, fra cui anche Vietnam e Cina, un altro elemento sostegno della candidatura del Lenzo e Dino Ferrari.